Un blocco di corse di fine stagione molto interessante, com'è la tua condizione? La mia condizione è buona, le gare ci sono per concludere l'anno del miglior dei modi e speriamo che vada bene almeno una di queste gare e di centrare un buon risultato. La corsa di oggi è molto adatta alle tue caratteristiche, percorso duro e poi puoi far valere il tuo spunto finale in caso di arrivo ristretto? Sì, esatto, il percorso è adatto alle mie caratteristiche e speriamo che non venga troppo dura e troppo selettiva e che arrivi un gruppetto ristretto.